Tutto Food 2019, siamo allo stand di Tassoni Cedrata e ci troviamo in compagnia di Gian Maria Ambrosi, il responsabile vendite on trade che intanto invitiamo a salutare. Ciao Gian Maria e benvenuto sugli schermi di OregaTV.it. Ciao a tutti e benvenuti a voi nel nostro stand. Il vostro stand è sempre bellissimo, ricchissimo di prodotti e questa volta anche con tante novità. Cominciamo però dalla storia di Tassoni. Qual è la storia di Tassoni in un minuto? Dire tutta la nostra storia in un minuto è difficile. Diciamo che siamo un'azienda che siamo diversamente giovani come dico io, abbiamo 226 anni di storia, siamo presenti sul mercato da molti anni, la gente si riconosce nei nostri prodotti, nella nostra qualità dei nostri prodotti, nel nostro marchio e nella naturalità con cui lavoriamo sempre le materie prime. La cosa più importante che cerco sempre di trasmettere ai nostri partner, ai nostri clienti è che siamo un'azienda che lavora le materie prime direttamente nei nostri stabilimenti. Che cosa presentate in questa ennesima edizione di TuttoFood, la 2019? Qui a maggio 2019 a TuttoFood presentiamo, abbiamo due novità principalmente. Una è la nostra linea fiori e frutti, quindi con il fior di Sambuco, il mirto in fiore, la pesca amara che godranno della dicitura bio, quindi abbiamo avuto tutte le certificazioni, perché già usavamo le materie prime bio già da tempo, ma finalmente abbiamo ottenuto tutte le nostre certificazioni che ci mancavano e quindi presentiamo la linea fiori e frutti nella categoria bio. Un'ulteriore novità che presentiamo sempre qui a TuttoFood è la nuova tonica. Presentiamo una nuova tonica ai limoni del Lago di Garda, perché la nostra azienda è di Salò sul Lago di Garda e abbiamo fatto una ricerca per trovare un prodotto che fosse un emblema del nostro territorio. Abbiamo collaborato insieme alla Regione Lombardia e ad altre associazioni per il recupero di qualche limonaia storica del Lago di Garda e da questa collaborazione è nato questo nuovo prodotto, con una china particolare, una china gialla molto ricercata, quindi in modo naturale, sempre naturale come abbiamo lavorato su tutti gli altri prodotti. Estraiamo l'amaricante e diamo questa aromatizzazione ai limoni del Garda. Fantastico, fantastico vedertelo raccontare con tanta passione. È ancora più fantastico, è guardare sott'occhio il barman Nunzio che è alle nostre spalle, che nel frattempo sta andando a preparare dei cocktail proprio per noi. Di cosa si tratta Nunzio? Carissimo, buongiorno, abbiamo un gin tonico, quello nuovo, con l'abbiamo appena detto, con il limone del Garda e l'Apertas, che è il nostro cavallo da battaglia, fatta con il nostro bitter, scusate, aromatizzato sempre al cedro, accompagnato, raffreddato e accompagnato con la nostra classica cedrata. Con la formula classica direi, una parte di aperitivo tassoni, una parte di cedrata tassoni, molto sapientemente dosata. Raffreddato, bisogna raffreddare molto bene il bitter per farle sentire tutti i suoi sapori. E prima di assaggiarlo diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con voi per motivi commerciali o solo per avere maggiori informazioni su dove trovare determinati prodotti della nuova gamma. Certamente, oltre al nostro sito internet e a tutti i nostri social dove siamo presenti, Instagram, Facebook e quant'altro, ci potete scrivere tranquillamente a info-cedrata-tassoni.it e saremo ben lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie, grazie anche a te Nunzio per aver preparato queste due delizie che visivamente... ...pronte a degustare per voi. Grazie, grazie a tutti e vi aspettiamo qui.